Bentornati a tutti voi su Via della Fede. Approfondiamo insieme il Vangelo di oggi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia e ancora il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani, quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, andò presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche, fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simone Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo, Signore, allontana di da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore Lode a te, o Cristo Commento al Vangelo della fede, in questo giovedì, dove facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Teresa. È la ricorrenza proprio di Santa Teresa di Calcutta, di Madre Teresa. Dunque, chiediamo a questa grande santa che ha speso la sua vita davvero per i poveri, per i più bisognosi. Chiediamogli di aiutare anche noi, perché anche noi siamo poveri e bisognosi, nel comprendere queste parole del Vangelo, nel farci vivere così fortemente quest'amore di Cristo. Bene, cominciamo anche noi, oggi, con il segno della croce, invocando lo Spirito Santo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Concedici, o Paraclito, la tua intelligenza, perché mediante questa possiamo comprendere meglio le parole del Vangelo, che ci avvicinano sempre di più al Padre nostro, Celeste. Dunque, Padre, donaci anche oggi il tuo amore, perché siamo bisognosi. Donaci serenità, donaci tranquillità, nel comprendere e nell'accettare la vita che affrontiamo ogni giorno. Bene, comincia questo Vangelo di Luca in un modo davvero interessante. Cerchiamo di approfondire perché gli argomenti che oggi il Vangelo ci propone sono davvero degli argomenti stratosferici. Gesù si fa spazio, come vedete dal disegno, si mette tranquillamente seduto su una barca e cerchiamo di interpretare cosa significano le sue parole e cosa significano i suoi gesti. Dice il Vangelo, in quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, stando presso il lago di Genezareth, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Allora, sembra apparentemente un elemento banale. Arrivi su questo laghetto, su questo piccolo posto, e trova spazio Gesù su queste barche. Ora, che cosa vuole dire, che cosa rappresentano tutte queste cose che fa Gesù? Beh, potete prendere elemento per elemento e scoprirete davvero che Gesù, in questo caso, ci fa vedere cos'è la Chiesa, come forma la Chiesa. Cioè, che cosa vuol dire questo? Gesù non si mette a parlare con le folle quando queste fanno ressa attorno a lui, ma si sceglie un posto. Si sceglie un posto in un lago piccolo, un po' come dire, parto dal molto poco. Questo lago rappresenta, diciamo, un punto di partenza della Chiesa, cioè lui si mette su una barca staccato dalle folle, cioè il Signore Gesù crea uno spazio dal quale poter parlare alle folle senza essere schiacciato, senza essere interpretato male. Cioè si mette in una posizione su questo lago, su questo mare. Noi sappiamo perfettamente cosa significa mare, cosa significa lago. Lui trova nel mondo un posto che galleggia sopra il peccato. Il mare, il lago, le acque fondamentalmente rappresentano questo peccato, all'interno del quale gli uomini sono completamente immersi. Dunque, lui prende una piccola barca che galleggia sopra il peccato. Ed ecco qui la rappresentazione della Chiesa, una barca che si distacca dal mondo e da quella posizione Gesù non fa altro che parlare alle folle. Ecco dunque che si genera un elemento fondante nella Chiesa, un modo con cui Dio insegna agli uomini come parlare ad altri uomini che si trovano invece non su una barca, ma che sono prigionieri del mondo. Si trovano al di sotto spesso, non solo immersi, ma a volte al di sotto di quello che è il livello del mare completamente. Dunque cerchiamo di capire che questa simbologia è una simbologia davvero importante. Sale su una barca, quella di Simone, che sarà lui, Simon Pietro, a diventare il primo papa della storia, il primo pontefice, quando Gesù non ci sarà più, sarà lui a guidare questa Chiesa, a guidare questa barca. Ecco dunque come questo modo di vedere le cose, di vedere il mondo, simbolicamente viene riflesso materialmente in quello che Gesù fa e come lo fa? Ecco dunque che si siede su quella cattedra dove insegna. Questa cattedra è la barca che rappresenta la Chiesa, il trono di Pietro, il trono di Cristo, inteso Pietro, inteso quando Cristo non ci sarà più, perché Pietro non fa... il pontefice generalmente è il vicario di Cristo, quindi non ci confondiamo. Il trono è di Cristo, da lì lui insegna agli altri, ma non è un trono di gloria, lui si sceglie una barca di pescatori come trono da cui poter comunicare agli altri in un modo davvero, diciamo così, unico. Generalmente gli uomini cosa fanno? Quando devono comunicare, per comunicare la loro superiorità, si scelgono un posto sopraelevato per parlare. Ed è davvero singolare dunque che Gesù scelga questa barca. Vista questa simbologia, possiamo dunque comprendere meglio queste parole del Vangelo e capire ciò che significa più profondamente Chiesa oggi. Perché Gesù allora ci fa vedere davvero come la intende, cioè un elemento di salvezza. Signori, quando ci troviamo nel mare, quando vuoi ascoltare una parola di salvezza, perché le folle facevano ressa per ascoltare questa parola di Dio, il Signore ci dà una barca che galleggia sul mare perché ognuno di noi possa essere salvato. Ecco come intende il Cristo, la Chiesa. Ognuno di noi da quella barca parla con quelle parole d'amore che gli vengono dettate dal Salvatore e da Dio Padre perché questa salvezza si possa estendere a tutti. Dunque, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone prendi il largo e getta le vostre reti per la pesca. Dunque, il Signore qui ci insegna un qualcosa davvero di unico e particolare. ci sta facendo comprendere Gesù che ha chiamato quegli uomini per farne dei pescatori come aveva fatto lui poco prima di chiedere a Simon Pietro di prendere il largo. Ora, gli chiede di gettare le reti. Queste reti sono quella fede, quella fede, quell'amore di Dio che si immerge nel peccato per estrarre il peccatore. Come ha fatto con me. Io ero un peccatore e un grande bestemmiatore. Cioè, io ero davvero un peccatore e un grande bestemmiatore. Dunque, il Signore mi ha salvato da molto e mi sento molto riconoscente a Dio. Ecco forse perché nel cercare di imitare il Cristo sento questa esigenza di dover per quello che posso fare qualcosa per aiutare gli altri ad aggrapparsi a questa rete che viene dall'amore. Dunque, Simone dice a Gesù Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Dunque, abbiamo in queste prime quattro righe del Vangelo abbiamo la Chiesa poi abbiamo quella parola di Dio che se ascoltata per amore e per fede genera una pesca miracolosa. Dunque, Pietro nella sua semplicità Pietro nel suo modo di guardare il Cristo non non è presuntuoso facendo valere le sue ragioni cioè che era stato tutta la notte a pesca ma che non aveva pescato niente ma cerca di guardare quelle parole da un punto di vista nuovo un punto di vista diverso accogliendole con umiltà ecco che l'umiltà come ci insegna sempre nostra madre salva perché accoglie accoglie tutto anche contro ciò che per noi è irrazionale pensare se ora che sono stato tutta la notte getto di nuovo le reti come posso pensare di prendere qualcosa quando l'ho appena fatto e non mi è mai riuscito dunque l'umiltà di Simon Pietro cambia completamente le carte in tavola e dà l'opportunità agli uomini e a Dio di manifestare questo grande amore di Dio per noi con questa pesca miracolosa cioè viene rappresentato il fatto che nell'umiltà e nell'ascolto della parola di Dio beh la pesca è assicurata cioè il Signore ci dice che se tu in umiltà fai le cose non sei certo tu che farai riempire le reti di pesci ma ci penserà il Signore per amore un amore dettato da questa voglia di non perdere nessuna delle pecorelle questa voglia di non perdere nessuno dei figli quindi di accogliere tutti tutti coloro che in umiltà accettano di farsi pescare di farsi tirare fuori dal peccato anche se questo elemento è estremamente doloroso perché quando tiri fuori un pesce dall'acqua beh inizialmente è davvero doloroso dunque fecero come dice come prosegue il Vangelo dice Simone a Gesù e l'abbiamo letto prosegue il Vangelo dicendo allora fecero cenno ai compagni dall'altra barca che venissero ad aiutarli essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare ecco che la fede di Pietro richiama la fraternità degli altri perché c'è abbondanza per tutti cioè la fede di uno salva molti ed è proprio l'insegnamento che Gesù uno degli insegnamenti maestri che Gesù ci darà sulla croce il sacrificio di uno l'amore di uno la fedeltà di uno salva molti ecco dunque che gli altri accorrono e riempiono queste barche per tutto ciò che possono quindi è qualcosa di davvero importante comprendere che noi ci mettiamo del nostro e Gesù tutto quello che noi ci abbiamo messo lo riempie fino all'orlo dunque davvero possiamo rendere grazie al nostro padre che è nel cielo e ringraziamo Gesù per questa grande abbondanza di doni perché quello che ci mettiamo noi è davvero molto molto poco dunque dice al vedere questo Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo signore allontanati da me perché sono un peccatore lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto così pure Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo che erano soci di Simone con loro sarà una storia speciale Pietro Giacomo e Giovanni saranno gli amici stretti di Gesù li porterà in posti dove gli altri non andranno ci sarà un amore di predilezione perché loro in questo stupore riconoscono il Cristo Pietro si riconosce peccatore e riconosce chi ha di fronte perché si mette in ginocchio capisce che davanti a lui a un santo di Dio e dunque questo stesso stupore lo hanno Giacomo lo hanno Giovanni e diciamo così si genera ora uno dei legami più forti della storia dell'umanità perché è davvero Gesù che chiama fortissimamente questi pescatori a iniziare un cambiamento nel mondo che sarà la rivoluzione più grande mai realizzata nella storia di tutti i tempi quello che sarà la salvezza per noi ancora oggi adesso e prosegue nei secoli fino alla fine fino all'ultimo giorno dunque Gesù disse a Simone non temere perché loro erano stati invasi di stupore quasi no di timore d'ora in poi sarai pescatore di uomini e tirate le barche a terra lasciarono tutto e lo seguirono dunque Gesù manifesta loro ciò che era la loro vocazione dunque avevano vivevano di quello e avendo fatto una pesca così grande in quel momento decidono di lasciare tutto perché comprendono cos'è davvero la scelta giusta comprendono davvero cos'è la cosa importante da fare quella di lasciare le cose materiali per andare in sequela del salvatore del mondo andare dietro a colui che cambierà ogni cosa riescono a comprendere in fondo al loro cuore che hanno incontrato Dio dunque cercano di dimostrarlo come possono e il massimo che un uomo possa fare è lasciare ogni cosa e seguire Gesù dunque che oggi madre Teresa che è stata davvero una donna straordinaria di grande esempio in questo perché ha davvero cercato lo sposo con tutte le sue forze per tutta la sua vita è riuscita a realizzare questo sogno dunque che per ognuno di noi possa essere così riuscire ad ascoltare la voce del Signore che ci indica la vocazione e che ci porta a seguire Cristo nella pienezza che la benedizione di Dio discenda su ognuno di voi sui nostri cari sulle nostre famiglie e se queste parole vi sono state di qualche aiuto vi chiedo preghiere per me e per la mia famiglia grazie a tutti e sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti